È stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale la mozione del Vice Presidente del Consiglio, Stefano Scaramelli, sulla procreazione medicalmente assistita. In Toscana ci sono 22 centri di PMA, di questi 7 sono di primo livello, ovvero effettuano l'inseminazione intrauterina, 15 di secondo e terzo livello, cioè eseguono tecniche più complesse. Ho avuto il coraggio di aprire il tabù di questa discussione in Consiglio regionale, ringrazio i colleghi per aver votato all'unanimità questo atto, il tema dell'infertilità, il tema della impossibilità di portare avanti una gravidanza, il tema del cambiamento degli stili di vita, il tema forte che c'è sul fatto che la denatalità sta producendo un impoverimento della società se non nascono i bambini, è un tema che tra un po' di anni ci si presenterà, proprio anche in termini sociali e collettivi. Abbiamo portato delle misure e proposto al Consiglio di impegnare la Giunta rispetto ai riconoscimenti di LEA, rispetto alle questioni di carattere ambulatoriale o a questioni di carattere di ricovero, rispetto al tema delle attività convenzionate, dell'equilibrio fra centri pubblici e privati, temi del personale. Tante sono le questioni che oggi impediscono, penso anche alla pubblicizzazione, anche alla sensibilizzazione di temi così importanti per consentire alle persone di maturare quello che è un diritto di carattere individuale, in particolar modo alle donne di portare avanti le gravidanze. La mozione di Scaramelli impegna la Giunta anche a sostenere in conferenza Stato, Regioni e sul territorio campagne di informazione per la donazione e la conservazione di ovociti e spermatozoi, con particolare riferimento alle nuove generazioni. Il tema dell'infertilità si lega anche molto alle questioni degli stili di vita, quindi serve informazione, serve promozione, serve affrontare il tema del tabù della donazione, ma soprattutto serve consentire e favorire quella che è una procreazione che può aiutare tante donne e tanti uomini in Toscana.